Allora, il terzo classificato noi abbiamo come commissione abbiamo messo fruttato di oliva acerba medio, note erbace di mandorla fresca, piccante ed amaro, mediamente armonico, gli abbiamo dato 7,60 di votazione, i quarti classificati hanno avuto 7,50, sinché si tratta di tempo e come tutti i concorsi, però un oliva 8,9, ecco, questi qui sono ottimi oli tutti, come dicevo gli anzi abbiamo premiato di più, oltre al fruttato più o meno intenso, l'armonia di tutti i componenti, quindi se si entra già nei primi 4 o 5 siamo sicuri che l'olio è veramente ottimo, poi ai fini della premiazione, il primo, il secondo, il terzo posto, scusateci, ma noi quando facciamo, ognuno, ogni assaggiatore non è che chiacchieramo quegli altri, ognuno fa la sua scheda in silenzio, il capopani fa il suo giudizio, raccoglie le schede, fa la media, la media determina la votazione, ecco, c'è altro da fare. E il secondo olio, eh? Aspetta, non l'abbiamo ancora più. Ah, il terzo, il terzo. Il terzo è l'assimicato, azienda agricola, vitivinicola, giorni. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti.